paolo vanoli buongiorno buongiorno e benvenuto davvero qui nel podcast del posto delle parole per farci incontrare un artista e conoscere la sua arte attraverso una mostra che lei ha curato una mostra che è alla pinacoteca civica di como e la mostra e sarà aperta fino al 3 marzo prossimo ricordiamo anche che il catalogo è edito da dario cimorelli paolo vanoli innanzitutto grazie per essere qui insieme con noi per questi 10 minuti di conversazione sull'arte per andare a scoprire questo artista e il suo e il suo gesto e il suo gesto artistico che diventa oggetto che diventa oggetto di di una mostra tra l'altro ci sono delle recensioni molto belle quindi mi sembra che già una una valutazione di questo genere sia da prendere in considerazione paolo vanoli sì beh devo dire siamo rimasti piacevolmente sorpresi dall'interesse che la stampa anche la televisione riservato alla nostra iniziativa e questo dimostra anche una cosa se posso permettermi che a volte si può riuscire a destare l'interesse dei mezzi di comunicazione del pubblico senza per forza fare le solite mostre no la mostra su van gogh sugli impressionisti o su quegli altri due o tre nomi che di solito bucano lo schermo come si dice invece una mostra più articolata e con vari livelli di lettura su un personaggio che come è normale che sia il 99 per cento delle persone che vedono il volantino o il manifesto della mostra appunto ignorano chi sia questo personaggio quindi una mostra per scoprire qualcosa di assolutamente nuovo e siamo contenti che abbia avuto abbia avuto quel riscontro e beh devo dire che raccontare di mostre senza nulla togliere a quelle per esempio cui lei faceva riferimento raccontare le mostre come in questo caso quella del collezionista e pittore geo poletti rappresenta una sfida ulteriore perché perché anche il percorso di ricerca è un percorso diverso e quindi anche la proposta al pubblico deve essere necessariamente improntata su un diverso registro che necessariamente deve essere diverso rispetto a raccontare che ne so un grande nome un volto noto della della pittura ma qui sta anche un po il bello delle mostre che sono specifiche che sono nate su un progetto particolare non sono le mostre che girano come dei carrozzoni eh sì esattamente qui il progetto è stato proprio quello di di riscoprire una figura per il pubblico per il pubblico ampio una figura che in realtà era molto nota bisogna dirlo agli storici dell'arte agli antiquari e a tutto il mondo degli specialisti che gravitano intorno alla storia dell'arte perché geo poletti a partire dagli anni 50 è stato uno dei più grandi collezionisti italiani di pittura del seicento e del settecento con un nucleo per esempio di nature morte ineguagliato di una bellezza e di un'importanza assoluta che hanno e dagli anni sessanta che vengono richieste most per le mostre più importanti in europa ad esempio sul genere della natura morte quindi per gli addetti ai lavori è un nome che significa qualcosa era un grande intenditore un conoscitore amico di federico zeri roberto longhi tutti i grandi storici dell'arte e direttori di musei internazionali sono passati da casa sua e però come mai aveva queste queste relazioni molto importanti ricordiamo che tra l'altro che rogero poletti detto geo era era nato a milano nei primi anni del secolo scorso ed è scomparso undici anni fa ora il tema della relazione è un tema importante per un collezionista perché il il collezionista si vive di un suo intuito di un suo gusto di una sua di un suo saper acquistare e quindi creare una collezione ma il collezionista in questo caso poletti viveva anche di relazione quindi per un per un per un per un collezionista questa cosa è importantissima sì è molto importante poletti fin da subito capisce intuisce che il collezionismo ha senso il suo collezionismo ha senso se si intreccia agli studi se segue delle vie non non troppo battute e quindi subito rimane incantato interessato agli studi di roberto aperti da roberto longhi e proseguiti da tutti i suoi allievi cioè andare alla riscoperta del seicento e ancora sconosciuto dei generi minori come la natura morte il ritratto i caravaggeschi tutti caravaggeschi adesso di gran moda ma negli anni 50 60 ancora veramente ai primordi della riscoperta prima prima che roberto longhi ci facesse scoprire caravaggio in sostanza vero beh in parallelo direi perché la mostra di caravaggio a milano di longhi si ricordo bene del 51 sono gli anni in cui poletti inizia sicuramente dobbiamo immaginarci poletti assiduo in quelle sale anche perché comunque lui già conosceva longhi e frequentava molti allievi importantissimi di longhi studiavano i quadri di poletti presentati alle mostre carlo volpe mi viene in mente e altri quindi sicuramente si è la conoscenza degli studi più avanzati appunto in questo caso di longhi e della sua cerchia si riverbera sul collezionismo assolutamente lei ha citato poco fa paolo vanoli la caratteristica ogni collezionista una sua ha un suo percorso ed è anche qui il bello della sfida artistica di essere collezionista di opere d'arte in questo caso soprattutto le nature morte perché questa scelta è una domanda io ho rimpianto il rammarico veramente acerbo come posso dire per usare un termine leopardian si acerbo di non avere conosciuto poletti di persona perché è mancato solo pochi anni fa ma io ho conosciuto la famiglia qualche anno dopo e la prima domanda che gli avrei chiesto perché non è una passione appunto forte sentita ma avrei voluto proprio chiedergli i motivi da dove cosa lo interessava di una natura morta anche se qualcosa posso intuirlo perché ad esempio se guardiamo alle sue nature morte vediamo che nella nella nell'ampia produzione dell'età barocca lui evita accuratamente di acquistare quei quadri diciamo molto pomposi trionfali suntuosi no le grandi apparecchiature non so con fiori frutti animali c'è delle scenografie di natura morta di oggetti e di natura ma per i palazzi principeschi che esprimono fasto magnificenza invece lui ama la la semplicità delle secondo il gusto del dell'arte lombarda appunto riscoperta da longhi no della realtà ama gli angoli un po ombrosi delle cucine padane e canestre no di frutta con le mele bacate come quella di evaristo baschenis oggi riconosciuti come capolavori e quindi una natura morta molto legata alle sue origini lombarde all'attenzione per la realtà per le cose umili e quotidiane riscoperte nella loro poesia è sicuramente quella la linea di fondo che che lo anima e lo stesso vale per il ritratto quest'amore per il ritratto e lui che lui comprava appunto molti ritratti di di artisti che allora ancora oggi sono anonimi cioè non riusciamo ancora dare il nome molti suoi ritratti sia i personaggi e neppure gli autori che li hanno realizzati però lui evidentemente interessava la forza magnetica di quei volti la qualità della pittura con cui sono restituiti e non quindi andava al di là del nome dell'attribuzione della era la realtà della pittura quello che a lui interessava sicuramente si potrebbe dire paolo vanoli che c'è una sorta sottolineo sempre che non sono un esperto ma semplicemente un curioso ma c'è una una sorta di cesura tra il poletti collezionista e il poletti pittore perché il poletti pittore ha l'ispirazione diretta dall'atmosfera di sironi per esempio sì però sì capisco cosa vuol dire però va precisato una cosa la fase possiamo dire così sironiana quella pittura appunto legata molto all'immaginario anche degli anni venti degli anni trenta di sironi quindi la città le macchine gli aerei è una fase piuttosto breve della sua carriera cioè lui dipinge quel tipo di opere lì a vent'anni possiamo dire quando inizia a dipingere perché per le così casi della vita lui si trova appunto poco più che adolescente deve sfollare sfolla da milano e si rifugia nella nella casa di famiglia bellaggio sul lago di comodo e proprio a bellaggio al grande hotel di bellaggio tutto resistente è anche diciamo rifugiato e sironi e quindi lui inizia a dipingere proprio sotto sotto la guida di sironi che lui incontra incontra in questa situazione però appunto l'influsso di sironi va a morire poi nei primi anni cinquante piuttosto breve e subito poi poletti trova una strada tutta sua che secondo me è piuttosto in sintonia con poi le sue scelte di collezionista perché si dedica moltissimo alla figura umana al ritratto per esempio percorrendo sempre le vie del figurativo mai dell'astratto quindi al di là delle mode diciamo quando noi raccontiamo le mostre d'arte qui nel nostro podcast del posto delle parole chiediamo sempre ai nostri ospiti di fare una sorta di gioco molto semplice e lo chiediamo a lei in questo caso di estrarre un'opera d'arte e di farcela vedere come si dicevano un tempo a scuola con parole sue quale sceglie la mostra a due diciamo due lati e le opere di poletti e le opere antiche una vale per l'altra cioè posso sceglierne una faccia lei una domanda molto impegnativa direi direi che scelgo un quadro che lui chiama dipinto da poletti che lui chiama olimpia quindi richiamandosi alla tradizione della pittura francese del tardo ottocento di quelle meravigliose donne distese con una venatura piuttosto evidente di erotismo la sua olimpia che a sua volta si rifà ai grandi nudi femminili quelli di edouard manet per esempio si manee certo mi riferivo a quelle poi a loro volta visto l'amore di poletti per la pittura antica quale un quadro che si rifà alla tradizione dalle veneri di tiziano in poi possiamo dire ecco quel quadro che voi dovete immaginare grande un quadro poletti pittore un pittore di grandi dimensioni quando ancora non andava così di moda come adesso adesso entrando in una galleria d'arte contemporanea tutti i quadri sono grandi tendenzialmente negli anni 60 non era così invece lui mantiene questi formati grandi sempre nella nella sua carriera di pittore quindi vi dovete immaginare un quadro largo magari due metri e mezzo un quadro che occupa un'intera parete di un appartamento diciamo normale su cui questo quadro rappresenta appunto una donna distesa dalla carnagione molto chiara su uno sfondo di colori accesi rosati rossastri e questa donna con uno sguardo enigmatico che ricorda un po tratti anche diciamo sudamericani perché poletti da bambino per vicissitudine familiare ha vissuto lungamente in brasile ha sempre tenuto un ricordo di questi luoghi esotici di queste persone appunto dai tratti insomatici un po particolari quindi dovete immaginare questa grande donna stesa nella sua bellezza fisica con questo colore però appunto irrealistico alle spalle che già crea un senso di inquietudine ma la cosa che poi vi sorprenderà sarà vedere che i suoi piedi verso i suoi piedi si avvicinano due due figure come di probabilmente di cani due levrieri due cani molto affilati spettrali resi con pennellate molto sommarie compendiari quindi non terminati e questi cani sembrano quasi insidiare quel momento magico della della bellezza che si manifesta quindi un quadro che è veramente secondo me la chiave per entrare nel mondo di poletti perché presenta da un lato appunto la bellezza della pittura e poi un sottile velo di inquietudine come dire dalla bellezza di manè di tiziano oggi negli anni sessanta nel mondo di oggi è a qualcosa di che la insidiano insidiata in pericolo e quindi c'è questa c'è questo velo di inquietudine di qualcosa come di qualcosa di negativo che potrebbe accadere questo è un quadro che tutti i visitatori in mostra rimangono appunto molto colpiti da quando se lo trovano davanti e poi c'è l'altro quadro che ci deve raccontare quale a due posso due ma certo allora vi racconto c'è l'imbarazzo della scelta vi racconto magari direi una una natura morta che è un genere più difficile scelgo di di raccontare una natura morta anonima emiliana probabilmente un quadro appunto che raffigura cui vagamente facevo riferimento prima è una all'interno di una cucina poletti e lo considerava opera di di annibale carracci uno dei dei fondatori del genere punto della pittura della realtà e per certi aspetti annibale carracci da giovane se ricorderete che dipinge scene di macelleria per esempio e noi crediamo che non si non sia un quadro di annibale carracci che possa essere addirittura successivo di un centinaio d'anni però appunto è un quadro di straordinaria poesia perché raffigura appunto un bancone di cucina in pietra con uno sfondo di muro e ci sono raffigurate solo pochissime cose un pesce dai un pesce di acqua dolce dai riflessi leggermente dorati dei cespi di insalata è una una specie di bacile con dei pesciolini di di anche di fiume di magro e sullo sfondo però a dare un tocco di poesia che a me veramente ricorda manè è come un tocco di genio di un pittore anonimo un pittore padano che di cui non conosciamo l'identità e a dare un tocco di genio c'è un piccolo vasetto da cui di vetro da cui sbucano due o tre fiorellini colorati come un tocco di poesia nella ferialità della scena nella povertà di di quel desco la bellezza di di questi tocchi di colore e di a fianco l'unico tocco esotico di una cucina padana del settecento geopoletti collezionista e pittore la mostra cura di paolo vanoli a comola pinacoteca civica fino al 3 marzo e adesso in un minuto per salutarci paolo vanoli qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni il libro che fa compagnia in questi giorni sto rileggendo visto che la mia doppia veste anche di insegnante sto rileggendo i fiori del male di baudelaire fiori del male di baudelaire che è uno dei libri capisaldo veramente della letteratura e soprattutto della vita vissuta ancora prima di essere un caposaldo della letteratura grazie davvero paolo vanoli e buona giornata